E' una delle feste più antiche della cristianità, pensate, è datata 13 maggio 608 e fu istituita da Papa Bonifacio IV. E' la festa di ogni santi che poi fu spostata al primo novembre da Papa Gregorio III. E Gregorio IV invece, cento anni dopo, siamo arrivati nell'834, la portò ad essere festa di precetto. E' la festa che arriva prima della commemorazione dei defunti e storicamente è sempre una festa proprio da 1200 anni legata alla commemorazione dei defunti. Molti oggi si recano ai cimiteri proprio per ricordare i cari scomparsi. E' la festa di tutti i santi, la festa di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita all'aiuto, al prossimo. E noi siamo qui, al santuario di San Gabriele della Dolorata, che è il simbolo della santità in Abruzzo, perché San Gabriele è il patrono d'Abruzzo. Alle mie spalle vedete il nuovo santuario, qui di lato c'è il vecchio santuario, quello dove si trovava e dove San Gabriele pregava. E quella è la statua di Papa Benedetto XV. Papa Benedetto XV è il Papa che ha elevato, innalzato all'onore degli altari, nella santità, proprio San Gabriele. Invece il Papa che lo dichiarò beato fu Papa Pio X. Questo è il santuario di San Gabriele, meta di tanti pellegrini che anche oggi e soprattutto oggi, che è la festa di tutti i santi, vengono qui proprio per glorificare e pregare il Santo e magari anche a chiedere una grazia. Tutti abbiamo bisogno di qualcosa e se vengono molti anche a ringraziare, a pregare qui San Gabriele, molti sulla tomba chiedono l'impossibile. Quello che è umanamente impossibile, a Dio tutto è possibile. Anche per l'intercessione di San Gabriele, che io a volte intitolo il Santo dal miracolo facile, perché spesso la gente viene coronata da un riscontro anche personale di una grazia che hanno chiesto a San Gabriele. Si dice che Sant'Antonio da Padova faccia 13 miracoli al giorno, San Gabriele quanti ne fa? Ma non è quanti ne fa, è che la gente possa tornare a casa con un po' più di speranza, di fede e di carità. Capire che la loro vita non è fallita, la loro vita è importante, sull'esempio proprio di San Gabriele che ha accettato tutto secondo la volontà di Dio. Chi sono i santi? I santi due titoli gli do, amici e intercessori, sono nostri amici, non extraterrestri scesi dal cielo, ma amici che sono usciti, che appartengono alla Chiesa, ora fanno parte della Chiesa trionfante in cielo, e quindi sono nostri amici e gli amici ci aiutano, intercessori, perché presso il Signore loro possono tanto e sono veicoli di tante grazie e miracoli, ciò che ci serve nel nostro cammino terreno. Sono un esempio da seguire o sono difficili da imitare? Ma se la santità è amore, non è fare i miracoli, i santi degli altari fanno anche i miracoli, la santità è amore, tutti siamo incamminati su questa strada, tutti chiamati alla santità, la santità è un chiamato universale per tutti i cristiani, che diceva un pensatore, c'è solo una tristezza su questa terra, non essere santi. Ecco, io le faccio un podio, San Pietro, San Paolo, San Francesco, li metta lei sul podio, primo, secondo e terzo. Tutti in prima linea. Non c'è una classifica. Non c'è una classifica. La Chiesa anche per questo non fa una classifica più grande o più piccola, sono più importanti, hanno più rilievo nella Chiesa adesso o ieri, ma sono tutti importanti. Grazie. Grazie.